Ciao amici, sono felicissimo di tornare ad esibirmi in Corea col progetto musicale Made in Italy. Annyeonghaseyo, Italia esamandun umak progettro 다시 한국에 돌아오게 deo, 정말 기쁩니다. Credo che la musica faccia bene e possa far del bene, soprattutto credo nei giovani. Per questo motivo ad accompagnarmi con la mia fisarmonica a Bougari, ci sarà la Seul Viola Ensemble per favorire lo scambio e la crescita culturale tra Italia e Corea. Io credo che la musica faccia bene e non solo a noi, non solo a musica che ci può spostare aiutati a tutti i nostri alzaggi, credo che i nostri amici sui amici. Credo che i nostri amici al amici e il progetto al amici, credo che il amico di una buona belle bellezza. Per questo amici di un giro di un giro di Italia e la cultura di crescendo, per amici di un giro di Sol Viola Ensemble per mangiare i raggiungi, sono davvero felice. i concerti previsti sono il 25 settembre all'icksan art center, il 26 al mapo art center e il 27 settembre alla ceramic pala. 서울에서 열리는 콘서트는 9월 25일 익산 art center, 26일 mapo art center, 27일 ceramic palis hall에서 진행될 예정입니다. Ci vediamo in Corea. 한국에서 만나요. 감사합니다.